... se vai a 360 con una nuova la ventilazione, mano a taglio, pollice indice che tappano il naso, due dita che accompagnano il mento verso qui e il pollice che vi apre la bocca aspetta, guarda cosa hai rimesso un po' di giro, così devi in giro, bravissimo, prendi aria tu e vai